Per i fisi questi miei tempi, per i fisi questa cosa, vabbè comunque sono già un'attività di 9,29,30 perché è quasi un strumentino mio un poco generoso. Per i fisi questa cosa, vabbè comunque è... Ah, ultimo minder ok. Viva bene se si serve più. Ah, non, ma sono fatigui, v'arrate adorare. Ilg... Oh, non, non, non. Io non so, ma sono. Salut, poi buon bici! Ilg... Sì, 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 sì! Sì, sì! Sì, c'è una scena di più sceglione, ma non è una cacciata. Sì, non è una paura. Sì, non è un marino, ma non è una scena. Sì, non è un po' di più. Sì, non è una scena di più sceglione. Grazie a tutti.